Buongiorno dottoressa Mamoliti. Abbiamo alcune domande da farle da parte delle future mamme che frequentano i nostri servizi. Una domanda prima di tutto. Una donna in gravidanza può vaccinarsi contro il covid e se sì c'è un periodo indicato in cui farlo? La donna in gravidanza deve assolutamente vaccinarsi contro il covid. Non ci sono periodi raccomandati né pericoli. Anzi la gravidanza in sé è un pericolo maggiore di finire in terapia intensiva o in cure più importanti per la donna che contrae il covid di tre volte la popolazione generale. Quindi deve assolutamente vaccinarsi. Quali sono i vantaggi per la mamma e bambino? La mamma sicuramente se anche dovesse contrarre il covid avrebbe un'infezione molto più leggera il bambino riceve gli anticorpi che passano attraverso la placenta quindi è protetto anche lui dall'infezione nei primi mesi di vita. La vaccinazione anti covid espone la mamma il feto a dei rischi? Assolutamente no. Gli effetti collaterali descritti molto rari sono quelli compatibili con una lieve febbricola trattabili con farmaci abituali e dolenzia. Se una donna in gravidanza ha altre patologie la vaccinazione è raccomandata lo stesso? Più che raccomandata anche in questo caso. Ogni nuova patologia della mamma che sono anche banali come un'età superiore ai 35 anni che non è certa patologia, un peso corporeo elevato, asma, ipertensione, diabete, comune complicanze della gravidanza aumentano ulteriormente il rischio di sviluppare patologie più gravi e forme più gravi di covid. Quindi anche queste donne, anzi proprio queste donne dovrebbero vaccinarsi. Infine volevamo chiederle se fosse una donna in cerca di una gravidanza potrei fare la vaccinazione? E il mio partner? Non ci sono problemi né conseguenze né per un partner né per la donna sia durante il concepimento iniziale sia nella fase di ricerca di gravidanza. La ringrazio. A voi. Grazie.